Le anticipazioni di una vita, ci rivelano che nelle puntate autunnali, Simone, dopo aver appreso dal falso sopravvissuto della gran vittoria, che la sua amata Elvira ha perso la vita, instaurerà un forte legame con la giovane monaca Adela. Quest'ultima trascorrerà molto tempo in compagnia dell'ex maggiordomo, e in seguito alla sua richiesta di matrimonio, abbandonerà definitivamente il convento. Successivamente l'ex religiosa dimostrerà di avere dei problemi mentali, dato che farà credere al Gaiarre, che prima di prendere i voti era fidanzata con un operaio chiamato Carlos Cana da Castro, inoltre dirà bugie ai compaesani sul suo rapporto con il figlio della sarta Susana. Il fratellastro di Leandro, dopo essere venuto a conoscenza delle menzogne di Adela, prenderà le difese della ragazza, che a sua insaputa scriverà in un diario della sua storia d'amore con Simone, prendendo il posto di Elvira. Gli ultimi spoiler, ci rivelano che, Maria Luisa, dopo aver cercato di convincere in vano il Gaiarre, a non convolare a nozze con Adela, avrà l'impressione di vedere il volto della sua amica Elvira in un dipinto. In realtà, la sorella di Antonito non si sbaglierà, infatti quando si approprierà del ritratto, grazie a Victor, avrà la certezza che la donna raffigurata è proprio la giovane Valverde. Successivamente la figlia di Ramone e il fidanzato, verranno a conoscenza che il quadro che ritrae Elvira è stato proprio realizzato dopo il naufragio della Gran Vittoria. A quel punto Maria Luisa, su consiglio di Victor, mostrerà il misterioso ritratto a Simone, ma gli chiederà di non dire nulla ad Arturo. Purtroppo l'ex maggiordomo non la prenderà affatto bene, dato che inizierà a sospettare di Adela. Per finire il colonnello Valverde riceverà un messaggio vocale dalla figlia, nel quale la ragazza esporrà tutta la sua volontà di fare ritorno ad Acasias 38. Se vuoi conoscere sempre le ultime novità iscriviti e lascia un mi piace. Al prossimo video!